ecco qui un set con quattro pinze queste servono per il fissaggio di piccoli attrezzi, punte, anche per fare fori, fili metallici, tondini di ferro, maschi fillettanti è molto utile soprattutto nel modellismo, la struttura zigrinata permette una tenuta molto rigida e il set come vedete è completo con quattro pezzi il più piccolo utilizza punte da 0 a 0,8 mm, poi 0,8 1,3 mm il terzo 1,3 3,1 mm e il più grande 3,1 4,8 mm quindi andiamo da 0 a 4,8 mm la lunghezza va dalle 8,5 cm del più piccolo ai 10,5 cm del più grande tutto contenuto in un comodo astuccio come vedete se vi interessa potete trovarlo sul nostro sito elettronicadidattica.com grazie per l'attenzione e vi aspetto per i nostri prossimi video ciao ciao a tutti